Il secondo finalista della serata è Abesci Ermiro, proveniente dall'Albania e di anni 24. Eseguirà nell'ordine Stravinsky, concerto in Re, terzo e quarto movimento, seguito da Tchaikovsky, concerto in Re maggiore, opera 35. Vi ringrazio fin d'ora per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata, ricordandovi l'appuntamento di domani sera alle ore 20.30 con altri due concorrenti e altri concerti naturalmente, ma sempre con la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Paolo Costantinescu, guidata dal maestro Viti Ubalano. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie.